Il servizio di psicologia ospedaliera dell'ospedale Santa Maria di Terni per tutta la durata dell'emergenza coronavirus ha messo a disposizione una linea telefonica dedicata in via prioritaria ai familiari dei pazienti ricoverati, ai pazienti in regime di ricovero e ai dipendenti direttamente coinvolti nell'assistenza dei pazienti Covid-19. Per parlare con gli psicologi dell'azienda ospedaliera spiega una nota è possibile contattare il numero 0744 20 59 68, lo ripetiamo 0744 20 59 68 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17. Questo numero, spiega una nota dell'ospedale, deve essere utilizzato per necessità di carattere esclusivamente psicologico. Inoltre, l'intervento psicologico non rappresenta in alcun modo un tramite con i reparti relativamente alle informazioni di carattere clinico e di salute dei familiari ricoverati.